Bella raga, buongiorno, oggi vi voglio informare un pochettino più dettagliatamente cosa andremo a fare per gli abbonati quindi ragazzi ascoltatemi bene, una volta alla settimana per gli abbonati da livello 2 in su, quindi 2, 3 e 4 ragazzi ci sarà la possibilità di entrare in lobby con me una volta alla settimana, decideremo nel gruppo degli abbonati a seconda di quando uno può o non può e quindi ci vedremo, andremo in lobby raga, chi ha bisogno di qualche milione glielo do, glielo distanto qualche colpo, 2 macchine, issi, si deve aiutare a duplicare, ci mettiamo là ragazzi e facciamo quello che bisogna fare, facciamo anche delle attività eccetera 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 poi per chi si abbonati ragazzi a livello 3 entro il 30 di maggio, cioè entro fine di questo mese raga il regalo per next gen, quindi per xbox next gen, ci sarà il magic slot outfit quindi tu ti abboni a livello 3, mi contatti, io verifico e ti regalo il magic slot dovrai dare l'account perché dovrò inserirlo io manualmente nell'account purtroppo non è come play che basta dare il salvataggio montato ragazzi quindi raga, tornando un pochettino indietro e parlando di quelli che si abbonano a livello 1 diciamo che è un supporto, la possibilità di stare nel gruppo della family ragazzi ok? degli abbonati, ovviamente potrà capitare che giochiamo assieme, ovviamente ma non ci saranno tutti i vantaggi che hanno quelli da livello 2 in su, ok? ovviamente la priorità, tutte quelle cose là ci sono e niente raga io spero di aver precisato un pochettino di più poi ho tralasciato raga le cose scontate quando poi ci saranno abbastanza abbonati eccetera eccetera faremo delle live dedicate a loro facciamo attività solo con loro ovviamente cercherò di bilanciare le cose raga non è che ora perché ci sono gli abbonamenti non faccio più contenuti per gli altri o viceversa no, cerco sempre di tenere una giusta soglia un video la settimana per gli abbonati e i soliti video ragazzi per tutti quanti quindi chi mi vuole sopportare a me fa un sacco piacere e alla prossima bella raga sbadabam ciao 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 ciao